Il mondo del libro è cambiato radicalmente per due motivi. Il primo è che esistono molti più titoli di una volta. Il secondo è che con l'avvento del digitale io praticamente posso ordinare da casa il libro e istantaneamente ce l'ho sul mio tablet o sul mio kindle. Questo è un cambiamento radicale perché non ho più i tempi di attesa ed è eventualmente anche che uno poi si dimentica o cambia idea. Io sono un lettore abbastanza canito di libri, in particolar modo di libri digitali, proprio per queste praticità che vi stavo raccontando. Devo dire però nel mio caso, voi sapete che io ho prodotto questo libro un mesetto fa e devo dire che sono stati comunque molti di più i libri cartacei che quelli digitali venduti, almeno questo nel mio caso. Un'altra considerazione che potremmo fare tra oggi e ieri sono gli stipendi. Allora diciamo che un operaio oggi guadagna intorno a 1200 euro al mese. Lo stesso operaio una volta guadagnava 350.000 lire e se noi andiamo a fare alcuni confronti giusto per riuscire a capire le differenze, cos'è che vediamo? Se noi prendiamo un videogioco di allora, poteva costare 230.000 lire. Un videogioco paragonabile chiaramente con altri contenuti di oggi diciamo che costa 250 euro. In pratica ci volevano molti più soldi allora per riuscire a comprare lo stesso prodotto di oggi. Prendiamo l'esempio di un pc. Oggi un pc basico costa intorno ai 450-500 euro. Un'olidata di alcuni anni fa costava dai 5 ai 6 milioni e chiaramente c'era un abisso per la possibilità di poterlo comprare. Così come il tema della carne. La carne costava circa 7.600 lire al chilo contro i 10 euro di oggi. E sono differenze sostanziali perché con quello stipendio da 1.200 euro ci vuole un cento ventesimo di quello stipendio per acquistare un chilo di carne oggi. Mentre allora ci voleva un quarantaseiesimo nello stipendio stesso. Se noi paragoniamo una macchina, una panda, chiaramente con le modifiche tecnologiche che ci sono state, allora costava circa 3 milioni e 700 mila lire. Oggi diciamo che con 7 mensilità si riesce a portare a casa la stessa panda. Allora ci volevano almeno 10 mesi per riuscire a fare. L'unico prodotto che non è cambiato in buona sostanza è il pane. Probabilmente perché essendo un prodotto particolarmente povero di valore, di peso, di prezzo, allora costava circa 750 lire e 800 lire al chilo. Oggi ci vogliono circa 3 euro. Quindi è rimasto abbastanza bilanciato questo discorso. Cos'è che però possiamo dire rispetto a questi numeri appena raccontati. Allora che sicuramente da un punto di vista economico ci abbiamo guadagnato. Si fa meno fatica, ci vogliono meno ore lavoro per ottenere dei prodotti. Il grande problema di oggi però è un altro. Il grande problema è la disoccupazione giovanile. Cosa che allora non avveniva perché era sicuramente un'Italia in forte crescita, in forte sviluppo. Ma sicuramente il problema della disoccupazione giovanile dovrà essere affrontato. Bisogna che i nostri politici si mettano in testa di studiare delle strategie per riuscire a creare posti di lavoro per i giovani perché se no è inutile aver migliorato economicamente la nostra situazione, la possibilità di consumare di più prodotti se poi non ci sono le condizioni di avere uno stipendio adeguato. Io vi ringrazio e alla prossima. Grazie a tutti.